oggi volevo andare a parlare dell'airdrop di zk sync c'è un qualcosa che sto vedendo fatto da altre persone ovvero sto vedendo che altre persone stanno comprando i token che sono su zk sync quindi sono nativi di progetti di zk sync per andare a fare front running del live dell'airdrop secondo me questo è sbagliato in questo momento ma non è sbagliato in generale ora vi vado a spiegare perché vi vado a spiegare una maniera in cui io lo farei se volete sapere effettivamente quando lo farò perché probabilmente lo farò mi potete seguire sul discord quindi vi lascio il link di descrizione quindi vi spiego la situazione attuale vi spiego perché secondo me è sbagliato e poi vi spiego cosa andrei a fare io quindi al momento la gente sta comprando i token nativi di zk sync come ad esempio mute punto io unidex anche se non è nativo di zk sync andranno probabilmente a comprare sync swap e altri token perché l'idea è questa sono micro cap al momento le persone vogliono farmare l'airdrop quindi arriveranno sulla chain andranno a comprare quei token per farmare l'airdrop e quindi vi faranno da exit liquidity questa idea di per sé non è sbagliata anzi può essere anche molto più remunerativa del farmare l'airdrop stesso facendo questo andate anche a farmare l'airdrop perché andate a fare transazioni sulla cene quindi probabilmente andate a farmare l'airdrop e quindi di per sé un'idea molto corretta anche se ovviamente ha più rischi perché essendo più remunerativa quando potete andare a guadagnare più ci sono sempre più rischi perché secondo me al momento questo è sbagliato numero uno come si scrivono i contratti su zk sync non è esattamente uguale a come si scrivono i contratti sulle altre cene bm quindi zk sync ha due chain alla zk sync light che è una chain che non è e bm compatibile ma ci si interagisce stando sulla rete tillum su metamask e zk sync light che è una chain con il proprio cnd quindi è proprio un'altra chain quindi la aggiungete su metamask e ci interagite come se fosse un'altra chain un po come bnb arbitrum optimism polygon avalence e tutte le altre quindi in questo momento si sta principalmente parlando di zk sync era che è la nuova cn di zk sync e quella dove probabilmente arriveranno più cose quindi come si scrivono contratti sulla cn di zk sync era non è uguale a come si scrivono sulle altre non è completamente uguale come si scrivono sulle altre cnvm c'è ad esempio un progetto che ha ricevuto 2 milioni dagli utenti come token sale quindi ha venduto dei token per ricevere e tiro dagli utenti ha ricevuto 2 milioni ma non li ha potuti tirare fuori perché avevano utilizzato una funzione che si chiama la funzione transfer di soliditi che però su zk sync non funziona quindi loro non possono creare fuori quei 2 milioni di tiro in cui 2 milioni di tiro saranno per sempre bloccati almeno per adesso sono bloccati su quel su quel contratto perché la maniera in cui si scrivono contratti su zk sync non è perfettamente uguale a come si scrivono sulle altre cnvm e quindi potrebbero esserci alcuni protocolli che non sono al corrente di questa di queste modifiche e quindi potrebbero effettivamente fare errori e poi quel token vi va a zero altro motivo è che zk sync non è provato non è detto che funzioni come funziona adesso di che sin che era non è detto che funzioni al cento per cento le zero knowledge proof sono complicatissime non è detto che effettivamente le zero knowledge proof andranno a funzionare e quindi se voi andate a comprare anche solo ad avere dei fondi su zk sync era potreste perderli perché la chain stessa potrebbe fallire potrebbe non funzionare come deve funzionare e quindi potrebbe andare a fallire potrebbe potrebbe esserci degli hack potrebbe funzionare male potreste perdere i vostri fondi quindi c'è da tenere a mente che mettere i soldi ora su zk sync anche senza comprare i protocolli è rischioso perché non è detto che le zero knowledge proof utilizzate da zk sync era siano funzionanti il team di zk sync è molto bravo ma le zero knowledge proof sono un argomento complicatissimo e quindi non è detto che si sia riuscito a farlo perfetto un altro motivo è che lerdo non è detto che arrivi adesso anzi lerdo probabilmente arriverà tra più di un anno perché il team ha detto che il processo di decentralizzazione di zk sync richiederà almeno un netto e sappiamo che nelle cripto un annetto può voler dire anche due tre cinque anni non credo ci farà così tanto però hanno detto almeno un annetto quindi probabilmente ci vorrà un bel po prima di un vero hype per quell'air drop adesso c'è più un hype generalizzato a tutti gli airdrop e zk sync uno di quelli con più hype però per avere dell'hype proprio diciamo localizzato su zk sync sulla sull'accendi zk sync bisogna aspettare un attimino quindi non è detto che l'air drop arriverà adesso quindi magari se comprate dei token adesso numero uno potrebbero salire quindi voi li potreste comprare al picco e poi magari crollano e quando c'è l'air drop risalgono di nuovo ma non ritornano mai a quel picco numero due potrebbero esserci altri protocolli in quel momento che sono diciamo i protocolli da comprare quindi in generale l'idea buona sarebbe quella di comprare il gmx di zk sync il dex di zk sync il lave di zk sync quindi money market il decentralized exchange è quello che fa perpetual o magari in futuro anche quello che fa opzioni quindi non è detto che i protocolli che adesso hanno più volumi saranno quelli che tra un anno avranno più volumi quindi noi non sappiamo al momento quali sono i protocolli effettivamente da comprare quindi è molto rischioso al momento adesso comprare dei token aspettandosi l'air drop quindi quando leggete poi dei protocolli processo di decentralizzazione vuol dire l'air drop perché vuol dire effettivamente rilasciare un token come dao dare exit exit liquidity agli investitori esterni quindi quando leggete da zk sync processo di decentralizzazione al 90 per cento vuol dire token quindi avevo letto questa questa strategia che molti stanno utilizzando su twitter questa strategia può essere utile però è molto pvp quindi voi vi trovate con altre persone a lottare per la liquidità quindi ci saranno altre persone che faranno la stessa cosa potrebbero da un pari su di voi perché potrebbero potrebbero averla fatta prima di voi quindi è una strategia molto rischiosa è una strategia che al momento io non utilizzerò però andrò ad utilizzare quando vedrò che l'hype su zk sync era inizia a salire e che i contratti iniziano a essere un po più sicuri che le zero knowledge proof sono durate almeno un po di mesi che sia un decentralized exchange un money market è un gmx di zk sync abbastanza con abbastanza liquidità e abbastanza volumi quindi si può dare quasi per scontato che quello sarà il protocollo che andrà a vincere in quell'area quindi è una cosa che io andrò a fare probabilmente è una cosa che non vado a fare adesso per tutti i rischi che vi ho detto però se volete rimanere informati sui quando lo andrò a fare potete semplicemente seguirmi su su discord la lo andrò a scrivere quindi questo era il problema che c'è adesso diciamo questo questa strategia che volete adesso il perché io non l'andrò a fare il quando e come l'andrò a fare quindi come sarà effettivamente andare a comprare i token che vanno a vincere nel momento in cui ci sarà un attimino più più hype su zk sync era quindi questo era tutto se ci dovessero essere aggiornamenti ve li metto su discord vi lascio i link di disco in descrizione potete scrivere mi cv2 o su discord rispondo su entrambi